Buonasera, buonasera, no non parte grid adesso, non è che anticipiamo questa sera di mezz'ora, è solo per avvisarvi che adesso voi vi guardate Friends con calma e alle otto in punto siete però con noi a grid con questa nuovissima squadra straordinaria fatta da Marta Massimo Desiree, Marco Stefano e Giuseppina che forse vinceranno il miliardo, vi ricordo sempre di telefonarci, di chiamarci sempre se volete partecipare e vi avviso che insomma questa è una serata particolare, forse succederà finalmente il grande, ci sarà il grande vincitore, il grande concorrente, ma Marta con un miliardo cosa fai? Farei qualche viaggio, un po' di regali a casa. Desiree? Eh anch'io. Anche tu, Marco? Eh anch'io. Stefano? Sì viaggerei, poi non so. Tutti i viaggi? Giuseppina? L'isola di Pasqua. Va all'isola di Pasqua, ha già deciso dove va. L'isola di Pasqua. In barca, allora vedete? Allora comprerei. Alla compra? Allora, uno compra la barca e gli altri vanno in viaggio, hanno già deciso. Con la barca? Ma dove si può guadagnare questo miliardo? Solo qui. Greed.